Entrano in servizio oggi le pattuglie miste italo-svizzere, composte da agenti della Polizia di Frontiera e guardie di confine elvetiche, si occuperanno di controllare i flussi migratori. 30 agenti, formati appositamente, lavoreranno fianco a fianco per presidiare la fascia di confine. Tra i primi problemi da affrontare, la lotta ai passatori, che sono in aumento a fronte di una riduzione dei flussi migratori. I flussi migratori in questi ultimi due o tre anni sono nettamente diminuiti, però la problematica dei passatori non è scomparsa, anzi direi che negli ultimi mesi è andata da crescersi, quindi soprattutto durante la fascia notturna queste bande organizzate sfruttano i valichi non custoditi per cercare di trasportare da sud verso il nord Europa decine di migranti di qualsiasi etnia. Le pattuglie miste saranno in servizio quasi quotidianamente, senza un orario fisso prestabilito, e saranno composte da un minimo di 4 a un massimo di 6 agenti. Le pattuglie si muoveranno sempre su queste due auto, una italiana e una svizzera. Quando saranno in territorio elvetico davanti ci sarà la pattuglia svizzera e viceversa quando saranno nella fascia di confine italiana. Il servizio sarà svolto nella fascia di confine in un raggio di circa una ventina di chilometri. Che consente di poter avere una migliore disponibilità organizzativa, una conoscenza e un presidio del territorio migliore, che consente soprattutto sulle frontiere terrestri di poter avere uno scambio di informazioni fondamentali per esercitare almeno una funzione imprescindibile che è quella di controllare e vigilare frontiere proprio contro alcuni fenomeni, tra cui quella della criminalità organizzata e dell'immigrazione irregolare. Quindi è un tassello in più fondamentale per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il compito è quello di rafforzare la vigilanza nelle zone di frontiera. Non si sostituisce al servizio di controllo sul territorio che continua a essere svolto dalle forze di polizia territoriali. Diciamo che è un valore aggiunto sulle tematiche specifiche di frontiera. Dopo la presentazione del nuovo servizio il segretario provinciale del sindacato di polizia, la SILP CGL, Robes Ivan Roncolato, ha chiesto chiarimenti. A nostro parere, dice, è stata un'operazione frettolosa, creata senza i necessari approfondimenti e che ha sicuramente un risvolto politico.